Un saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con zona mista. Oggi ci troviamo nella splendida cornice della foresteria di Palazzo Radici in Città Alta e parliamo di uno sport che è abbastanza conosciuto ma che potrebbe essere ancora più conosciuto nel momento in cui parleremo con Sara Spampatti. Innanzitutto ciao Sara grazie per essere con noi in zona mista. Ciao e grazie per avermi invitata. Ok allora svegliamo il segreto parliamo di Ippica in particolare parliamo del galoppo diciamo uno sport davvero di quelli tosti perché bisogna essere davvero coraggiosi per buttarsi a quelle velocità spericolate con in sela un cavallo con tanti altri avversari insomma. Sì sì sicuramente è uno sport un po' insolito specialmente per noi di Bergamo che non abbiamo strutture per poter magari ospitare scuderie o piste d'allenamento quindi mi sono dovuta trasferire a San Siro. Ecco allora Sara cominciamo col dire che tu nasci a Bergamo sei originario di Gandino e fin da piccola ti sei appassionata un po' ai cavalli come nasce il primo amore come è scattata la scintilla? Beh il primo amore nasce grazie a mio zio Annesa Severino che aveva un maneggio a casa sua e teneva anche cavalli ex cavalli da corsa ostacolisti e noi anche mia sorella gemella Jessica eravamo sempre affascinati da questi animali nonostante fossimo anche allergiche quindi abbiamo un po' combattuto questa cosa e a otto anni abbiamo iniziato prima il maneggio sempre da subito con i puro sangue che ritiravano perché gli altri gli scansavamo un po' volevamo già il puro sangue. Già essere a livelli alti assolutamente. Siete poi diventate amazzoni che vuol dire sostanzialmente delle fantine giochette magari che è il termine femminile però non ancora professioniste tu invece poi hai fatto addirittura lo scatto successivo sei diventata professionista una delle possiamo dire tre professioniste donne in Italia a fare questo sport. Sì nel 2018 ho voluto prendere la patente da professionista probabilmente perché ho un carattere che non mi faccio mai bastare le cose quindi non non mi bastava appunto essere amazzone e ho voluto fare questa tra virgolette pazzia e provare a diventare veramente brava. E brava lo sei assolutamente i risultati lo stanno a testimoniare. Volevo essere sempre più brava e quindi ho deciso di confrontarmi con i veri professionisti per cercare di diventare come loro. Assolutamente tra l'altro nella tua storia recente se possiamo dire così oltre a determinati successi c'è stato un evento parliamo di un incidente che ha un po condizionato magari fortunatamente non in maniera irreversibile ma ma anche psicologicamente può averti condizionato raccontiamo in breve che cosa è successo. Sì io purtroppo a ottobre ho avuto uno stop per una brutta caduta e in un periodo dove non stavo andando male anzi stavo migliorando avevo già ero già riuscita ad avere un po di soddisfazioni e c'è stata la caduta a Firenze dove mi è caduto il cavallo mi sono passati sopra altri due cavalli che stavano dietro di me e mi sono rotta cinque vertebre del collo e quattro della schiena oltre vabbè il naso e così un po. Non ne parli come se fosse niente però insomma non è stata sicuramente una passeggiata. No non è stata una passeggiata però sono stata anche fortunata perché tutti i medici che mi hanno visto mi hanno detto che è stato un miracolo essere ancora in piedi e soprattutto senza danni permanenti. Però da lì è scattato qualcosa perché poco dopo che ti sei ripresa insomma finito il classico allenamento di recupero hai cominciato a ottenere ancor più successi di prima. Beh io mi ricordo che quando sono caduta la prima cosa che ho pensato non era oh cavolo sono caduta che male era ero arrabbiata perché sapevo che dovevo fermarmi e pensavo adesso quando potrò ricominciare quindi pensavo già a ricominciare. Quando si dice la passione. Sì quando è la passione poi fortunatamente io non ho mai avuto paura non mi sono mai spaventata anche per i precedenti infortuni quindi io ero un po demoralizzata perché era un altro stop e a livello fisico per quello che facciamo noi è un po una botta tosta perché poi devi star ferma a riprendere il fisico la muscolatura l'equilibrio anche a livello psicologico uno si fa dei dubbi su riuscire o no a ritornare. Anche perché come dicevi tu giustamente certo c'è un aspetto legato ai cavalli quindi a quella che è la sintonia con i cavalli ma anche un lavoro di preparazione atletico fisico atletico non indifferente perché bisogna essere davvero dei veri atleti molto ben preparati per andare a quelle velocità con quella resistenza insomma forza resistenza agilità. Sì e specialmente per noi ragazzi come dicevamo prima che siamo sicuramente in minoranza è difficile anche trovare chi ti dà fiducia e le chance giuste per per poter fare bene e farti vedere. Certo mettete un po in vetrina diciamo. Sì perché purtroppo in Italia è prettamente maschile quindi le ragazze vengono un po tra virgolette scansate perché preferiscono il fantino. Certo però i risultati che hai ottenuto secondo me parlano soli insomma stai facendo vedere con i fatti non a parole che davvero vali. Questo è sicuramente un contente per quello perché ho ricominciato e ho rivinto subito ed è stato uno stimolo a far sempre meglio a non mollare a impegnarmi ancora di più e fortunatamente ho avuto le chance giuste al momento giusto quindi ho fatto quattro vittorie di fila e poi adesso è aperta la stagione di San Siro e sono riuscita a vincere altre tre corse oltre ai vari piazzati che sinceramente mi interessano le vittorie basta quindi parlo solo di quelle. Non ci si accontenta mai. No però anche comunque mi sono ho ottenuto anche molti secondi posti terzi posti. Tu hai parlato di San Siro ti sei trasferita vicino a San Siro un po di anni fa proprio per essere più vicina al tuo lavoro diciamo così ecco come come è stato questo staccarsi dalla casa dalla famiglia dalle abitudini normali è stato un qualcosa che hai superato tranquillamente un po di nostalgia ogni tanto ce l'avevi? Credo che il trauma l'ha avuto più mia mamma perché noi comunque eravamo in due quando siamo ci siamo trasferiti mi sono trasferita insieme a mia sorella quindi eravamo in due e facevamo comunque la cosa che ci piaceva. Certo. Poi averla resa averlo reso un lavoro cioè io mi ritengo fortunata ad esserci riuscita e cose che tanti non riescono. Non riescono. Quindi non è stato un trauma. No perfetto. Adesso la stagione prosegue ci sarà la stagione estiva che partirà a luglio ma se guardi un po' avanti quale sarebbe il tuo sogno insomma un tuo obiettivo ti penserebbe proprio realizzare? Beh il sogno sarebbe sicuramente vincere gare più importanti come listed e magari anche gruppi che il gruppo è proprio il top il derby italiano è il sogno credo di ogni infantino. Certo. E niente io sto coi piedi per terra e per ora cerco di fare il meglio con quello che posso quando posso e lo stai facendo bene. Piano piano. Ecco se volessimo per chiudere dare un consiglio a chi magari ci sta guardando e magari giovanissima ha la passione che hai tu negli occhi e nei fatti che consiglio ti sentiresti di dare a chi vuole appunto avvicinarsi a questa questa specialità? Beh magari chi non ha per esempio chi magari sembra un po' lontano dalle io per esempio che vivevo a Gandino mi sembrava un po' lontano questo sogno di diventare Fantina però con l'impegno i sacrifici e se vuoi veramente una cosa se ti impegni secondo me riesci a tenerla come comunque ce la sto facendo io. Certo. Poi è lunga la strada è sempre lunga c'è sempre tanto da imparare e non si finisce proprio mai di imparare però uno deve avere anche un po' il carattere tosto e giusto di non arrendersi. Molto bene siamo arrivati al termine ti ringrazio Sara per questa intervista e naturalmente approfittiamo per brindare a un futuro pieno di successi. Grazie mille. Complimenti. Grazie anche a voi l'appuntamento con la prossima puntata di Zona Mista.